Il timore dei dipendenti è di ricevere una busta paga più leggera, senza quelle ore di cassa integrazione maturate nel corso del mese allo stabilimento Fiat di Termoli. Ma sull'annuncio di non anticipare la CIG ordinaria da parte dell'azienda e le mancate autorizzazioni dell'Inps, arriva la nota di Giovanni Notaro, presidente del Comitato regionale dell'Istituto, che ha precisato come non sia in atto alcun braccio di ferro tra la Fiat e l'Inps. L'anomalia rilevante, affermato Notaro, consiste nel fatto che il percorso ispettivo in capo alla Direzione regionale del lavoro legittimo e non contestabile va separato da quello della Commissione esaminatrice della richiesta di cassa integrazione, la quale deve solo verificare se ci sono le condizioni necessarie alla concessione. L'Inps, evidenzia Notaro, ha già preannunciato che martedì prossimo il Direttore regionale del lavoro ha convocato la Commissione in questione che in quella data arriveranno le autorizzazioni necessarie per sbloccare il nodo Fiat. Intanto i sindacati FIM, Wilm, UGL e Fismic hanno fatto il punto della situazione davanti allo stabilimento di Termoli, un incontro per evidenziare il clima di incertezza e tensione che si respira tra i lavoratori, in attesa di capire quali somme potranno percepire in busta paga rispetto ai mutui e alle numerose scadenze di fine mese che i dipendenti, specie se monoreddito, dovranno fronteggiare. Bisogna tutelare i lavoratori ma alcuni accanimenti non sono più accettabili, hanno spiegato i rappresentanti di categoria. Tutto quanto sia accaduto è di peso esclusivamente da atteggiamenti destabilizzanti e minatori che qualcuno sta cercando di fare. Non sono questi i momenti migliori.